Questa è la mia poltrona in terrazza, completamente bucata, il mio tendone. Pocca madonna! Com'è che suona, ma? Vai, tranquillo, 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 calma, 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 non andare indietro, ferma, ferma, non prendere panico, calma, calma. Questa volontà è una spazatata. Bisogna! Corsa, fai scopi che sottosano con 4 mattoni. uwagri, parte dietro! Per me, vieni la copia con 4 mattoni.